Ragazzi beccatevi sto bacon cheeseburger realizzato sul nostro fantastico barbecue Weber con ketchup classico Heinz, iconico e intramontabile, per queste preparazioni super golose. Iniziamo subito. Olio in padella e caramelliamo le cipolle con sale, pepe, zucchero, acido di vino bianco e acqua finché non saranno diventate un chutney. Carne di manzo, sale e pepe e creiamo il nostro burger. Rosoliamo bene il bacon finché non sarà super crispy, deve essere super croccante mi raccomando. Tagliamo ora il pane e lo imburiamo. Ora scaldiamo il pane e cuciniamo la carne con il cheddar su Weber Genesis finché non saranno pronti. Abbondiamo con il ketchup sulla base del pane, aggiungiamo l'hamburger con il cheddar, le cipolle, il bacon e il bacon. e chiudiamo bene. Questo per me ragazzi è il più buon hamburger del mondo, fidatevi, ciao!